Una Jambovisma incredibile le realizza la doppietta in una delle classiche del pavé più belle della stagione, stiamo parlando delle tre are elbeche dove Wout Van Aert e Christophe Laporte realizzano l'1-2 per la formazione olandese, veramente un dominio di squadra con ben 4 corridori della formazione appunto della Jambovisma in top 13 per cui veramente una prestazione mostruosa con un Van Aert che quest'oggi era incredibile, era assurdo, ma partiamo brevemente a parlare di quello che è successo sin dalle prime ore di gara, si è formata una fuga di 7 corridori con la presenza di corridori interessanti come il nostro Daniel Hoss, come Postelberger della Borahansgrohe in compagnia anche di Ryan Mullen il campione irlandese e anche Brent Van Boer, corridore appunto dell'Otto Sudal. La corsa però si accende per quanto riguarda i big a 80 km da conclusione e a farlo è proprio Wout Van Aert, il campione belga attacca un forcing veramente micidiale da parte sua sul Tijenberg, con appunto il forcing del belga restano i due compagni di squadra Christophe Laporte e Tij Beno in compagnia di altri alcuni dei grandi favoriti come Mohoric, Asgren, Stuyven e Stefan Kung. I sette rientrano velocemente sulla fuga mentre dietro in gruppo, gruppo che nel frattempo è sostanzialmente ha perso 20-25-30 secondi sull'accelerata e poi diciamo nel cercare di ricompattarsi, a tirare sostanzialmente c'era la Ineos Grenadiers in particolare con Magnus Sheffield, il neopro appunto americano, perché i loro capitani Narvaez e appunto Dylan Van Barle erano rimasti staccati. Erano rimasti staccati anche gli Aje de Zer che però erano addirittura in un terzo gruppo per cui insomma si è visto che non avevano grande gamba, tant'è che sostanzialmente tutto il lavoro è stato subbarcato sulle spalle della Ineos Grenadiers. Sulla corte successiva, mentre nel frattempo il gruppo si stava riavvicinando, arriva l'attacco di Tij Beno. Tij Beno, che appunto ha corso in supporto a Wout Van Aert, anche se alcuni attacchi sono sembrati un po' diciamo privi di senso, ma l'abbiamo visto anche in altre gare, si staccano sostanzialmente tutti i fuggitivi ad eccezione di Daniel Os e il gruppo viene rimandato a 45 secondi. Ma sul muro successivo, muro in pavè del Eikenberg, arriva l'attacco del ex campione ecuadoriano Jonathan Narvaez. Jonathan Narvaez che si porta dietro con sé Davide Ballerini e si porta dietro con sé anche altri corridori che riescono a rientrare proprio grazie all'impulso del corridore della Ineos sul gruppetto di testa. Con appunto i due già nominati, Narvaez e Ballerini, troviamo anche l'altro di The Sine Quick Step, Seneschal, l'altro Ineos, l'altro capitano Ineos, Dylan Van Barle, con loro anche Rasmus Stiller, Anthony Turgi e, pensate un po', Biniam Ghirmai. L'Eritreo che quest'oggi ha fatto una gara spettacolare. La prima volta che lo vediamo ad alti livelli sul pavè, il corridore appunto classe 2000 della Inter-Marché-Wanty-Gobert, ha fatto veramente una corsa eccezionale. Nel tratto successivo di pavè, pavè pianeggiante in questo caso, Tental Forcing Casper Asgren, lo segue subito a ruota, Vaud Van Aert sempre pronto a seguire il campione in carica dell'E3 Arelbe, che è appunto il danese della Quick Step Alpha Vinyl, con Biniam Ghirmai che è subito pronto veramente a ruota dei due big. Ma la corsa poi viene definitivamente decisa sul Paterberg, dove arriva un'altra accelerata veramente mostruosa di Vaud Van Aert, che quest'oggi sui muri in pavè era veramente una macchina da guerra. Segue solamente il compagno di squadra Christophe Laporte. Biniam Ghirmai era in terza ruota, ma è riuscito a rimanere sulla ruota dei due Jambovisma, sino sostanzialmente a metà del muro, ma poi a un certo punto ha perso le ruote, nessuno è riuscito comunque a fare meglio di lui, e appunto sono rimasti davanti solamente i due Jambovisma. Questo è stato il momento decisivo, perché a questo punto avendo due corridori della stessa squadra davanti, sono andati chiaramente di comune accordo collaborando con addirittura Vaud Van Aert, che sul muro successivo, un altro diciamo dei muri storici del Giro delle Fiandre, L'Ud Quaremont, Van Aert ha provato di nuovo a forzare il ritmo per cercare di guadagnare, ma tenendo sempre un occhio alla Porte per cercare di non farla staccare, perché si vedeva che chiaramente la gamba di Van Aert quest'oggi era superiore nettamente a tutti quanti, compreso la Porte, ma era importante tenerlo con sé, sia in ottica appunto di averlo come compagni di squadra, come supporto, ma anche appunto per arrivare con una vittoria trionfale, che ricorderemo sicuramente, con appunto abbracciati la Porte e Van Aert. E questo di fatti è successo, perché pian piano si è andati a guadagnare e guadagnare dietro, avevano capito che oramai si lottava per il terzo posto, hanno iniziato a guardarsi tra di loro, i due hanno preso un vantaggio veramente abissale, sono arrivati a toccare quasi due minuti di vantaggio, e alla fine appunto sono arrivati in parata, abbracciati l'un con l'altro, con appunto Van Aert, che veramente per pochissimi centimetri è rimasto davanti a Christophe Laporte, per cui grandissimo doppietto a Giambovisma, mentre per quanto riguarda la lotta per la terza posizione, diciamo che si sono fatti un po' sorprendere, perché a circa 300 metri alla conclusione, lo svizzero Stefan Kung della gruppa MA FDG, ha cercato diciamo la fagenata, l'attacco a sorpresa, nessuno gli si è diciamo piantato subito a ruota, tant'è che è riuscito appunto a conquistare questa ottima comunque. Terza posizione, con la quarta posizione la volata di gruppetto, vinta appunto da Biniam Ghirmai, un corridore che sta sempre di più mettendo in mostra le sue qualità, un corridore che in futuro potrà fare veramente grandissime cose, un corridore veramente di livello assoluto, che si apprezzo a diventare il miglior corridore africano di tutti i tempi. Quinta posizione per il vincitore della Milano Sanremo, con un attacco pazzo in discesa, Matei Mohoric, il campione soloveno, stessa posizione per un ottimo Valentin Madua, compagno di squadra di Stefan Kung, settima posizione per Jonathan Narvaez, ottava posizione per Tish Beno, per cui tre corridori della Giambovisma in top ten, nonna posizione per Dylan Van Barra, decima posizione per il vincitore dello scorso anno delle tre Arelbeke, che quest'oggi non ha nemmeno disputato la volata sostanzialmente, Kasper Hasgren, più staccati a circa tre minuti un gruppo comprendente Anthony Turgi, Rasmus Stiller e Jasper Steuven, in compagnia anche se non sbaglio di Michael Gogol. Per cui, altra grande vittoria per Wout Van Aert, che in questa stagione ha conquistato entrambe le classiche World Tour del Pavè, disputate sinora, stiamo parlando della Omluppet Newsblood, appunto delle tre Saxo Bank Classic Arelbeke, e adesso si arriverà alla Genveve, una corsa importantissima che Van Aert ha vinto lo scorso anno, dove cercherà appunto di difendere quel pettorale 1 che avrà sulla schiena, e cercherà di conquistare nuovamente questa importantissima classica, da aggiungere al suo Palmares, che oltre a queste classiche belghe, vede anche la presenza di un Amsterdam Gold Race, di una strada bianca e appunto di una Milano-Sanremo, per un corridore che sta ampliando sempre di più il Palmares, un corridore veramente di caratura eccezionale nelle classiche e non solo. Comunque ragazzi, per questo è il video di tutto, vi piace il commento e vi piace iscrivervi sulla nostra pagina Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video.